Bella raga, credo che questo sia il mio primo video su Tower of Fantasy per quanto riguarda il gameplay, siamo sul server cinese da un po' di giorni e mi ci sto perdendo un pochino, devo ammetterlo Comunque, allora, volevo spiegarvi un po' come funzionano le summon su questo gioco perché penso che interessi molto l'argomento Quella che vedete è la prima SSR che ho trovato, adesso non lo sto facendo per flexare, ok, ma è per iniziare a spiegarvi come funzionano le summon Allora, praticamente se ne andiamo nel nostro summon shop, che è qui, allora abbiamo diversi banner, d'accordo? Ora come funziona? Il primo banner che abbiamo per le summon standard, ok, ha un soft pt a 30 per trovare un SSR, d'accordo? Quindi le prime 30 summon troviamo sicuramente un SSR e poi ha un pt normale a 80 dove abbiamo un'altra SSR 100% Ora, cosa importantissima che c'è su Tower of Fantasy? Il pt non si resetta Adesso perché vi ho detto questa è la prima SSR che ho trovato? Perché io l'ho trovata al 20 summon E come vedete sono a 21 summon e non si è resettato il pt Cosa significa? Che le prossime 10 che faccio, per via di questo soft pt a 30, io ne troverò un'altra al 100% E poi ne troverò un'altra ancora sicuramente a 80 summon E potrei trovarne altre nel mezzo, diciamo, ok? E questo è il banner normale, questo è puramente, semplicemente il banner normale Ora, c'è un altro banner un po' più standard Che però non è un banner scaffold, diciamo, è semplicemente identico a questo Ok? Solamente che non ha pt E si fanno con queste orb viola Ora, queste orb, per farle summon, ne avete un casino, raga Tantissime, d'accordo? Ora, per farvi capire di quante summon parliamo che sono in game Se io vado nel completamento mappa che abbiamo qua Queste 114 qua e anche questi 48 sono tutte summon che sono da raccogliere nella mappa D'accordo? Quindi arrotondiamo, sono 150 qui 170 130 170 ancora E altre 170 Cioè queste qui sono pure summon che noi troviamo solamente raccogliendo e facendo cose in gioco Ok? Senza contare che poi troviamo in giro anche questi cubi qua Che scambiamo per altre summon Quindi in realtà il gioco di base ci regala solamente per il completamento mappa in generale Più di 1000 summon, d'accordo? Quindi è molto molto generoso Molto generoso Inoltre ogni tanto ci sono anche delle mega offerte dove scambiando questi cubi Prendi delle cose a prezzo ridotto Ma quello è un altro discorso Comunque Quindi abbiamo banner standard E banner normale, chiamiamolo così Non saprei come chiamarvelo Dopo c'è il banner dei chip Ma non voglio parlarvi dei chip adesso Semplicemente sono dei potenziamenti delle armi che troviamo con il gaccio insomma Però non voglio parlarvi ora dei chip Poi c'è il banner Quello dell'unità L'ultima unità uscita Dove c'è il 50% di più di trovare l'unità in questione D'accordo? E poi c'è il banner Un po' più sciopperino Ok? Dove c'è un SSR ogni 40% Con un rate up anche qui Di un'unità Ok? Quindi abbiamo quattro banner diversi Ora Come dicevo È molto generoso Ma questo video in realtà lo sto facendo Per farvi vedere che nonostante abbia trovato già un SSR Che è Merrill Ok? Adesso non sto qua a tradurvi il nome in cinese Ma è Merrill D'accordo? Ok? Che è letteralmente un tank di ghiaccio È un Garen per chi gioca LOL Misto a Noel per chi gioca Genshin Impact Misto a Ganyu Sempre di Ganyu Non lo so Comunque un sacco di cose tutte insieme Ok? Ed è favolosa Mi sto divertendo un sacco a giocare questo PG Davvero tantissimo Ok? Ora Per chi non lo sapesse Quando tu trovi un'arma È solo l'arma Ok? In realtà io adesso sto giocando Lei come immagine Ma potrei giocare anche il mio PG principale Che in realtà è un Kaneki È un Kaneki imboscato E usare comunque Tutte le armi che sto usando Compresa quella che ho appena trovato No? Ok Comunque Se siete interessati Farò delle guide in merito a Tower of Fantasy Quindi fatemi sapere nei commenti Adesso non perdiamo altro tempo Passiamo alle summon Che voglio vedere che altre SSR trovo Che sto aspettando da troppo tempo Quindi let's go Devo trovare un SSR 100% qua dentro Perché ora Qui Dovremmo essere blu Viola E gialla Perché Eccolo qui Ok Allora vediamo un po' Che cosa ci dà il gioco Sono abbastanza curioso Ok Eccolo Niente di che Questa è super rara Ed è un healer E va benissimo Ok 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 Uh Questa deve essere Cocoritter Che la volevo provare È la nostra Spear SSR Come arma Ok Quindi abbiamo trovato Cocoritter Molto bene La volevo provare La volevo provare WSR Ho trovato Ok Questa qua Ce l'ho già È una costellazione Quest'unità qua La daranno tutti Quando iniziate a giocare D'accordo Quindi L'avrete tutti quanti E ho trovato Cocoritter SSR Bene Bene La proverò Di sicuro Spear leggendaria Ci piace Adesso io Per farvi vedere Quello che dicevo prima Vedete Ho 7 orb Che ho raccolto Nella mappa Cioè facendo eventi Challenge Raccogliendo cose Spaccando altre cose Roba fuori di testa Adesso In realtà Sempre facendo cose in gioco Anche daily Vi danno questi cubi qua Questi cubi qua Li potete scambiare Per altre di queste Vedete che mi chiede Vuoi scambiare 450 cubi Per 3 summon Faccio sì Ok Così faccio altri 10 summon Dove non troverò Una cippa di niente Ok Però bisogna far vedere Anche le cose negative Allora Blu Viola E viola Ok Quindi troviamo Massimo Un SR normale Ora la schippo Per far vedere Ho trovato di nuovo Lei ormai ce l'avrò A costellazione Chiamiamola così Per chi gioca a Genshin Massimo E va bene E Ok E poi in realtà Mi ero riservato Altre 40 summon Del banner Quello Dove c'abbiamo Lo 0,3% Di torno SSR Quindi Boh Lo hiteremo Questo 0,3% Non lo so Facciamo 40 summon Molto velocemente Vediamo che cosa Ci esce fuori Non ci spero Per niente Ok E' letteralmente Come un pare Dal fabbro Di metti In qualcosa Oh abbiamo Una viola Però Ok Già una viola Sono contento Ce l'ho Martello di ghiaccio Questa tipa qua Per chi ama Tipo il destroyer Sullo star Con roba così Con la roba lì E spettacolo Picchia Tantissimo Ok Comunque abbiamo trovato La nostra SSR Facciamo le prossime 10 Non so più parlare La nostra SR Sarà bello trovare qualcosa Che non ho Qua è tutto blu Nel blu Dipinto di niente Ok Quindi let's skip Prossime 10 Ripeto Questo banner Non ha pity Sono summon Praticamente a gratis D'accordo Però puoi trovarci L'SSR dentro Prima cosa E seconda cosa Tutto quello che trovate Non è da buttare Perché serve A potenziare Le altre armi Che abbiamo Quindi in realtà È tutto utile Anche lo skiff Ok Che armi usi tu Cosa sei Mi piaci Dopo la guardiamo Ok Ultime 10 summon Free Che abbiamo Per la sessione Di oggi E l'ho letteralmente Fatto raccogliendo In giro per 20 minuti Ok Tutte queste 50 60 summon Che abbiamo fatto Quindi Spettacolare Ok Abbiamo un po' Di fodder Blu Armirare Materiali per upare Yada yada Insomma tutta questa roba qua Adesso Abbiamo fatto le nostre summon E quindi E quindi Abbiamo Abbiamo Il cannone Quello che abbiamo appena trovato Ma è un'altra arma di ghiaccio Cacchio E poi lei dovrebbe essere La nostra healer Che è fulmine E mi piace Mentre Mentre Cocco Ritter Che è la Spear E ghiaccio Pure lei Oh ma solo unità di ghiaccio È incredibile Ok Che comunque È un healer Quindi va bene Allora fammi vedere Togliamo Togliamo lei E mettiamo La nuova Arrivata Poi andiamola a vedere Un po' come l'aspetto Ah Ok Giochiamo come se fossimo lei Mmm Ok No questa è l'altra arma Che ho Ce la possiamo fare Ok Questa è la sua spear È ranged Ok 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 Con l'uno Mi fa un cerchio Che cura De ducom Va bene Chiaramente me lo dovrò andare a leggere Su un altro sito Che vi linko in descrizione Super super utile Ok Dove ci sono tutte le traduzioni In inglese Con tutti I chip Tutte le armi È veramente carino Vi fa vedere un po' tutto Quello che riguarda Le varie armi diverse Molto carina La mia seconda SSR È un healer Ed è di ghiaccio pure lei Ormai sono team più full ghiaccio Cosa faccio raga Serve il fuoco dappertutto In sto gioco Vabbò Comunque Per il video di oggi è tutto Se volete guide News So toverò fantasy Qualche tipo di gameplay Qualcosa Sono più che felice Di portarvelo Anche perché sto Letteralmente Nerdando al cinese Tantissimo Ok Quindi niente Fatemi sapere Se giocherete anche voi Vi ricordo che il gioco Esce il 10 agosto Prescaricabile Il 9 E ha gilde da 180 player Ma ne parleremo in un altro video Magari Ok Quindi Magari riusciamo a fare una gilda Super mega gigante Italiana Che ne so Vedremo Fatemi sapere cosa ne pensate E noi ci vediamo alla prossima Bella raga Ciao Ciao